Sfondo. Vaap, un personaggio con un passato complesso e legami nel sottobosco della criminalità, è sempre stato attratto dal potere e dall'influenza. Scopre casualmente degli articoli di giornale riguardanti Zuleia, una donna di bellezza straordinaria con un passato oscuro. In una giornata uggiosa, tipica delle tardive primavere di Terra Amara, Vaap si trova nel suo ufficio, circondato da pile di documenti e vecchi giornali. Il suo obiettivo è chiaro, trovare opportunità per espandere i suoi affari e rafforzare la sua influenza nella regione. Con questo in mente, sfoglia meticolosamente ogni fonte di informazione a sua disposizione, alla ricerca di notizie, articoli e rapporti che potrebbero rivelarsi utili. È un lavoro tedioso, ma Vaap è determinato, consapevole che anche il più piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. Mentre procede con la sua ricerca, una serie di vecchi giornali attira la sua attenzione. Sono copie ingiallite dal tempo, dimenticate in un angolo della stanza. Qualcosa in lui suggerisce che vale la pena dare un'occhiata, e così, spinto da un misto di curiosità e intuito, inizia a sfogliarli uno per uno. Le pagine raccontano storie di un tempo passato, ritraggono volti dimenticati e narrano eventi che ormai appartengono alla storia di Terra Amara. Ed è in uno di questi vecchi giornali che Vaap fa una scoperta sconcertante. Tra le pagine ingiallite, trova un articolo che racconta la storia di una giovane donna coinvolta nella prostituzione. La foto che accompagna l'articolo mostra il volto di una ragazza che, G. Lee, è incredibilmente familiare. È un volto che ha visto molte volte, che conosce bene. È il volto di Zuley Ah. L'articolo non menziona il nome della donna, ma la somiglianza è talmente straordinaria che Vaap non ha dubbi. La donna nell'articolo e Zuley Ah sono la stessa persona. Il cuore di Vaap inizia a battere forte. Le sue mani tremano leggermente mentre tiene il giornale. Un turbine di emozioni lo assale. Sorpresa, incredulità, forse anche una strana forma di eccitazione per la scoperta fatta. Da un lato, sente di avere nelle sue mani un'informazione che potrebbe cambiare radicalmente il suo rapporto con Zuley Ah, dall'altro è consapevole del peso e delle implicazioni di tale conoscenza. La storia di Zuley Ah, così come emerge dall'articolo, getta una luce completamente nuova sulla donna che credeva di conoscere. Nonostante la tentazione di usarla a suo vantaggio, una parte di lui è turbata. La scoperta lo mette di fronte a un bivio morale. Da una parte, l'opportunità di sfruttare queste informazioni per rafforzare la sua posizione. Dall'altra, la consapevolezza dell'impatto devastante che queste rivelazioni potrebbero avere su Zuley Ah e sul loro rapporto. Mentre il giorno volge al termine e le ombre si allungano nella stanza, Wahab rimane seduto al suo tavolo, immerso nei suoi pensieri. La scoperta di quegli articoli ha scosso le fondamenta della sua comprensione di Zuley Ah, e forse di se stesso. Ora deve decidere come agire, consapevole che ogni scelta porterà conseguenze irreversibili non solo per lui, ma anche per la donna che, nonostante tutto, ha iniziato a vedere sotto una luce diversa. Verifica dell'identità Wahab inizia a indagare per confermare se la donna negli articoli sia realmente Zuley Ah. Utilizza le sue connessioni nel mondo della criminalità e dell'informazione per raccogliere più dettagli, confermando infine che si tratta di lei. Raccolta di prove Determinato a utilizzare queste informazioni a suo vantaggio, Wahab comincia a raccogliere ogni articolo di giornale, foto e testimonianza che possa trovare sul passato di Zuley Ah. Questi documenti diventano la sua assicurazione personale. Ossessione Con il tempo, la raccolta di questi articoli diventa un'ossessione per Wahab. Egli crede che poter rivelare il passato di Zuley Ah Giyi darà potere su di lei e su chiunque la circonda, in particolare su coloro che la tengono in alta stima. Conflitto interno Mentre custodisce questi segreti, Wahab si trova in conflitto con i propri sentimenti. Da un lato, vede in Zuley Ah una donna che ha lottato per cambiare la propria vita. Dall'altro, non può ignorare l'opportunità di usare queste informazioni per i suoi scopi. Piano di ricatto Wahab elabora un piano per ricattare Zuley Ah, minacciando di rendere pubblico il suo passato a meno che lei non agisca secondo i suoi desideri. Questo piano però rimane in sospeso, poiché una parte di lui spera di non doverlo mai attuare. In una calda serata d'estate, sotto il cielo stellato di terra amara, Wahab e Zuley Ah si trovano faccia a faccia in un luogo isolato della tenuta. L'aria è densa, carica di un'attesa silenziosa che sembra sospesa nel tempo. Wahab, con un'espressione complessa che nasconde un turbinio di emozioni, avvia il confronto con una calma studiata, mascherando a malapena il nervosismo che sente dentro. La tensione è palpabile, quasi si potesse tagliare con un coltello. Con un tono di voce basso, ma chiaro, Wahab inizia a parlare. Le sue parole sono misurate, quasi sussurrate, come se temesse che l'aria stessa potesse tradirlo. Fa cenno a Zuley di essere venuto a conoscenza di alcuni dettagli del suo passato, dettagli che la maggior parte delle persone avrebbe preferito rimanessero sepolti nell'oblio. Non pronuncia apertamente la parola prostituzione, ma il suo suggerimento è inequivocabile, carico di un significato che va oltre le parole stesse. Zuley all'inizio rimane immobile, come colpita. La sorpresa e il timore iniziale si riflettono nei suoi occhi, ma ben presto lasciano spazio a un'emozione diversa, una forza interiore che sembra attingere da profondità inesplorate. La sua postura, inizialmente incerta, si rafforza, e il suo sguardo, che un momento prima sembrava cercare una via di fuga, ora incontra quello di Vahap con una fermezza sorprendente. È come se, in quell'istante, Zuley raccogliesse tutta la sua dignità, tutto il suo coraggio, per affrontare non solo Vahap, ma anche le ombre del suo passato. Vahap, testimone di questa trasformazione, ne rimane profondamente colpito. Ciò che aveva iniziato come un tentativo di intimidazione o forse di vendetta, si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Vede davanti a sé non la donna del passato, segnata da scelte difficili e circostanze forzate, ma un essere umano capace di una resilienza e dignità straordinarie. In quel momento, le intenzioni oscure che aveva portato al loro incontro iniziano a vacillare, a dissolversi come nebbia al sole. La conversazione che segue è meno un confronto, è più un dialogo, in cui le parole non dette hanno lo stesso peso, se non maggiore, di quelle pronunciate. Vahap si ritrova a confidare a Zuleya alcuni frammenti del proprio passato, rivelando vulnerabilità e dubbi che non avrebbe mai pensato di condividere. E Zuleya, a sua volta, ascolta con un'empatia che va oltre la semplice cortesia, offrendo a Vahap una prospettiva diversa su se stesso e sulle proprie azioni. La notte si consuma lentamente, e quando l'alba inizia a tingere il cielo di sfumature dorate, Vahap e Zuleya si separano, sapendo che nulla sarà più come prima. Entrambi hanno esposto frammenti delle loro anime, lasciando che l'altro li vedesse nella loro cruda verità. E, in qualche modo, questo scambio silenzioso di emozioni e comprensioni ha creato tra loro un legame indissolubile, un ponte costruito nonostante, o forse a causa di, le ombre del passato. Redenzione. La reazione di Zuleya e il suo continuo impegno a vivere una vita onorevole nonostante il passato iniziano a influenzare Vahap. Comincia a vedere il valore della redenzione e del perdono, riflettendo sul proprio percorso di vita. Cambio di cuore. Alla fine, Vahap decide di seppellire gli articoli di giornale e di non usare mai le informazioni contro Zuleya, riconoscendo la sua forza e la sua capacità di cambiamento. Questa decisione segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua vita, in cui sceglie di lasciarsi alle spalle la manipolazione e il ricatto, aspirando a un'esistenza più onorabile e rispettosa degli altri. In questa storia, Vahap attraversa un viaggio personale dal desiderio di potere e controllo attraverso il ricatto, fino alla realizzazione dell'importanza del perdono e del cambiamento personale, ispirato dalla resilienza e dalla dignità di Zuleya. Cosa pensi di questa storia? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.